Ciao a tutti, sono Cristina, addetta vendita del Toon Shop del Parco Commerciale Le Fontane. La storia di Toon nasce nel 1950 con la creazione del primo angelo di Bozzano, la figura in ceramica ispirata ai figli della contessa Lene Toon mentre dormivano. Oggi Toon continua a creare collezioni uniche in grado di regalare emozioni, creazioni che comprendono idee regalo, articoli per la casa, creazioni accessori donna e bimbo. Il nostro scopo è quello di regalarvi gioia. Vi aspettiamo!